va bene possiamo iniziare vi pregherei di chiudere di disattivare l'audio in maniera tale che diciamo le nostre voci non vengono disturbate allora ecco allora presento subito Pino Ippolito Armino dicendo che Pino è una figura insolita e originale di intellettuale meridionale perché è nato a Palmi in Calabria si è lavorato in ingegneria nucleare al Politecnico di Torino anche lui come il precedente relatore come Federico Maria Butera un ingegnere nucleare solo che Pino Ippolito non ha diciamo svolto studi specifici nella sua materia ma ha lavorato come ingegnere all'Olivetti di Ivrea soprattutto all'istituto San Paolo San Paolo di Torino dove ha avuto incariche di management e di riorganizzazione dei sistemi informatici dell'istituto San Paolo di Torino Comunque questi sono aspetti della sua carriera che qui non hanno nulla a che fare con il tema della lezione Pino Ippolito infatti è una figura originale anche per un'altra ragione perché da almeno una decina d'anni si è dedicata alla storia dell'Italia meridionale e devo dire che lo ha fatto con risultati sorprendentemente eccellenti dico sorprendentemente perché non è uno storico di mestiere ha fatto altro nella sua vita allora ricordo queste sue opere sulle quali potrò dire poco perché non sono nel tema della lezione di questa serie Brigantaggio politico delle due Sicilia Città del Sole 2015 Quando il Sud divenne retratto Guida 2018 questo è un libro davvero originale nella vastissima letteratura storica che si è occupata del divario tra il Nord e il Sud perché Pinepolito a differenza degli altri studiosi non ha messo a confronto genericamente diciamo il Sud con il Nord ma il regno delle due Sicilie con lo Stato Sabbaudo mostrando diciamo le potenzialità e le caratteristiche di ciascuna sezione territoriale del statale del paese e mostrando anche la diversità profonda delle elite politiche dirigenti non posso dire nulla più di questo ricordo un'altra opera storia della Calabria partigiana a Pellegrini 2020 questo rappresenta un contributo scusami credo che sei anche tu collegato la resistenza italiana perché noi abbiamo un'idea per favore chi è che noi abbiamo un'idea per favore non parlate abbiamo un'idea diciamo parziale della resistenza italiana immaginandola esclusivamente come un esperienzo del Nord Italia no si chiama Augusto Pineppolito ha mostrato come Pino dalla remota Galattria venute forse esperienze sacrifici umani di tantissimi carabesi che hanno partecipato anche nel 2021 per favore chi parla c'è qualcuno che parla nel 2021 ha pubblicato il fantastico regno delle due Sicilie breve catalogo delle imposture neobarboniche la terza 2021 appunto come dicevo è un pamphlet gustosissimo perché smonta le balle diciamo che i neobarbonici raccontano sulle magnifiche sorte progressive del Sud al momento dell'unità lo fa con diciamo con documentazione storica ineccepibile allora a questo punto voi chiederete ma se seppina eppolito ha questo curriculum che c'entra che c'entra con il tema di questa sera i danni che la guerra infligge al pianeta c'entra perché per mia responsabilità perché io avendo organizzato un convegno il 20 settembre sul collasso della biosfera ai compiti della politica avevo bisogno di una relazione che trattasse che trattasse gli effetti sull'ambiente della guerra in corso la guerra in Ucraina l'ho chiesto l'ho chiesto a a eppolito e lui l'ha fatto in maniera egregia come chi ha avuto la pazienza di guardare la registrazione della sua lezione ha potuto ha potuto constatare allora quindi questa sera vedrete e constaterete che io non mi sono sbagliato nell'assegnare a Pino Ippolito questo difficile difficile compito un piccolo contributo prima di dargli la parola e contributo alla alla discussione al tema di questa sera è una diciamo una notazione noi naturalmente immaginiamo e questa sera Pino Ippolito lo mostrerà che la guerra sappiamo che la guerra produce danni ingenti al pianeta non sappiamo invece che anche in tempo di pace la manutenzione delle armi la gestione degli stessi eserciti comporta dei danni inimmaginabili al pianeta adesso vi do subito alcuni dati sulla rivista internazionale Global Environmental Politics viene pubblicata nel 2010 una una ricerca condotta da più scienziati dal titolo Militarization and the Environment il titolo è molto lungo ve lo risparmio ed è in breve stato delle emissioni ed impatto delle emissioni gasose ed impatto della gestione delle armi nei vari paesi dal 1970 al 2000 ebbene vi in sintesi vi fornisco due dati i militari per realizzare i testi sulle armi usano solventi lubrificanti carburanti propellenti perfino pesticidi eccetera producendo cito testualmente la maggiore quantità di rifiuti pericolosi al mondo la maggiore quantità di rifiuti pericolosi al mondo cioè una contaminazione irreversibile di vastissimi territori inoltre il consumo di petrolio per portaerei aeree elicotteri carri armati eccetera rappresenta il 75% di tutta l'energia consumata a livello globale da tutti gli stati voi pensate solo per la manutenzione degli eserciti in tempi di pace si producono questi dissesti spropositati il che la dice lunga sulla sulla follia della guerra sulla follia della guerra noi non possiamo permetterci la guerra non possiamo permetterci gli eserciti dovremmo dovremmo pensare a una diversa organizzazione del mondo va bene basta così spero spero diciamo che che mi abbiate sentito perché io ho sentito un grande silenzio ringrazio ancora Piene Polito per aver accettato quest'invito e gli do subito la parola e mi taccio grazie Piero grazie a tutti per essere qui avete sentito sì sì abbiamo sentito benissimo abbiamo ho sentito anche in particolare le tue parole fin troppo generose e lusiniere sulla mia persona sorvolo su queste e passo a dire che Piero appunto mi è incaricato di questo compito e io vedo di svolgere nel modo migliore possibile devo trattare di una questione che è di tristissima attualità la guerra vediamo di farlo proiettando delle slide condivido lo schermo non so se vedete condividi dovreste vedere vedete la sì si vede sì 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 allora dunque i danni che la guerra infligge al pianeta ma tutte le attività umane che comportano manipolazione e trasformazione di materia e la guerra certamente tra queste provocano danni all'ambiente nell'accezione più ampia peraltro come che include cioè noi esseri umani come ci ha ben spiegato nell'ultima lezione proprio il professor Federico Butera che segue che segue che qui tra noi la specificità della guerra tuttavia è che la sola attività umana ad avere come obiettivo principale e persino esclusivo la devastazione la destruzione di ogni cosa proprio ieri si poteva leggere sul manifesto non so se alcuni di voi l'hanno fatto un articolo di Fabrizio Tonello nel quale si ricordava come fosse stato proprio un generale italiano Giulio II in uno scritto del 1921 il dominio dell'aria a teorizzare l'impiego in guerra di tre tipi di bombe e cioè le esplodenti le incendiari e le velenose le esplodenti servono a produrre le prime rovine le incendiari a provocare il fuoco e le velenose pensate infine servono a impedire che gli incendi possano venire domati dall'intervento di qualcuno dall'esterno più chiaro di così e del significato dunque della guerra allora si possono trovare molte definizioni di guerra in particolare la si può trovare sul dizionario enciclopedico della Tercani come di un conflitto armato tra due o più stati o più generalmente tra gruppi organizzati etnici sociali politici ma serviva una definizione operativa che consentisse di raccogliere e catalogare dati per produrre delle statistiche ci ha pensato ormai molti anni fa il dipartimento della pace delle ricerche sui conflitti dell'università di Uppsala in Finlandia che per inciso è la stessa del botanico Carlo Linneo così deve anche la classificazione di piante e di animali ora in base a questa catalogazione dovuta all'Uppsala Conflict Data Program vi sarebbero tre tipologie di conflitto armato il conflitto tra stati e cioè il conflitto in tutte e tre anzi diciamo meglio così e tutte e tre le categorie hanno in comune la caratteristica di aver causato almeno 25 morti in combattimento nell'anno presi in esame i conflitti tra stati o state based conflict sono conflitti armati da due parti almeno una delle quali è al governo di uno stato il non state conflict è un conflitto invece tra forze armate e due gruppi organizzati nessuno dei quali è al governo di uno stato e infine la violenza unilaterale o one side violence e l'uso deliberato di forze armate contro i civili ma queste definizioni ci consentono e lo vedete di rappresentare alcuni dati il primo il primo grafico che vi mostro fa vedere quali sono i conflitti attivi quali sono stati i conflitti attivi tra il 1989 e il 2022 come vedete soprattutto i conflitti fra stati e i conflitti non fra stati sono cresciuti in modo considerevole direi negli ultimi tre lustri invece per quanto riguarda in particolare i conflitti fra stati questa è la mappa che rappresenta le aree di crisi nel pianeta che come vedete sono le aree maggiormente interessate sono l'Africa l'Asia e il Medio Oriente anche se non sono del tutto escluso per quella di tensione nell'America e nella stessa Europa secondo un'altra organizzazione indipendente che è l'ACLED un'organizzazione internazionale che raccoglie dati in tempo reali sulle violenze politiche nel mondo sono stati ben 12 paesi che nel corso del 2021 hanno superato la soglia dei mille morti per violenza armata ricordo in particolare perché molto spesso noi dimentichiamo i conflitti che sono attivi nel pianeta ciò che succede in Nigeria dove agli attentati da parte dei terroristi islamici si sommano gli scontri tra allevatori e comunità agricole per il possesso della terra le operazioni di guerriglia contro le compagnie straniere di estrazione gli episodi di ribellione di repressione governativa nelle regioni nella regione del Biafra quella che conosciamo tutti per essere stata una delle regioni più povere e lo è tuttora del pianeta o l'Etiopia dove il primo ministro Abiy Ahmed dopo aver ricevuto solo nel 2019 il premio Nobel per aver messo fine a una guerra con la guerra sanguinosa guerra con l'Eritrea e ora impegnati a una guerra contro il fronte di liberazione del Tigre o del Tigrai che vuole l'indipendenza di quella regione e poi ancora la Repubblica Democratica del Congo in Somalia Burkina Faso Mali Sud Sudan Repubblica Centrafidana Sudan Niger Mozambico Camerun l'Asia è un focolaio di gravissime tensioni e in Asia è assai grave la situazione che si è determinata in Afghanistan dopo l'abbandono del paese da parte della Nato e la riconquista del potere da parte dei talebani pensate che nel solo 2021 si sono avuti oltre 40.000 morti negli scontri tra i talebani e la cosiddetta Repubblica Islamica dell'Afghanistan che è espressione del vecchio governo nello Yemen uno dei paesi più poveri al mondo si consuma invece una guerra profonda aspra tra le forze governative e i ribelli Hutu che ha già causato migliaia e migliaia di morti e ha anche provocato una gravissima crisi alimentare per oltre 16 milioni di persone che abitano in quel paese cito ancora il Myanmar dopo che nel 21 nel 2021 il generale Mingong Gang ha preso il potere rovesciando il governo democraticamente eletto e dopo che le proteste note come l'evoluzione di primavera sono state soffocate nel sangue con oltre 1500 morti e 10.000 persone catturate e incarcerate oggi in Myanmar è in corso una guerriglia armata organizzata dalla Forza di Difesa del Popolo che è la frange armata del governo di unità nazionale costretto all'esilio non dovrei dire nulla della guerra in un'Ucraina se non che tutti purtroppo ben conosciamo se non che secondo le ultime estive i morti ammonterebbero ormai a 190.000 di cui 120.000 russi e 70.000 ucraini e sarebbero oltre 300.000 addirittura i feriti infine ultimi in ordine di tempo come sapete l'operazione Iron Swords spade di ferro avviata dal governo israeliano a Gaza è già provocato dopo che l'attacco di Hamas arriva a sua volta ucciso 1400 cittadini israeliani e presi in ostaggio 200 persone ha già causato l'intervento nella striscia di Gaza secondo l'ONU qualche giorno fa almeno 70.000 morti almeno 7.000 morti scusate di cui 2.000 bambini già l'ONU perché le Nazioni Unite che sono state fondate come sappiamo nel 45 al termine del secondo conflitto bellico e di cui oggi fanno parte ben 193 paesi che hanno accettato almeno formalmente gli obblighi della carta o dello statuto adottato dalla conferenza di San Francisco sembrano totalmente impotenti eppure l'articolo 2 di questo statuto un po' come la nostra Costituzione stabilisce che i membri che liberamente accettano di andare a far parte della relazione della Nato devono risolvere le loro controverse internazionali con mezzi pacifici e che debbano astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o comunque dall'uso della forza contro l'interità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato ce n'è abbastanza come capita per sottenere l'urgenza di una riforma delle istituzioni internazionali come ha spiegato molto bene in una lezione precedente il professor Luigi Ferraioli Allora a proposito di ACLED che citavo prima come organismo indipendente di raccolta dei dati sulla violenza politica ovunque nel mondo mi ha colpito e faccio un breve inciso questo passaggio che ci riguarda direttamente e che è davvero almeno per me sorprendente nell'ultimo triennio 2020 2022 tre quarti cioè 238 su 315 di tutti gli eventi di violenza su funzioni locali dell'Unione Europea si sono consumati in Italia è un dato davvero eclatante sono stati ben 132 gli amministratori pubblici uccisi per mano della criminalità tra il 1975 e il 2015 il fatto che dovrebbe ancor più allarmarci è che gran parte di questi episodi si sono verificati nelle quattro regioni meridionali che conosciamo cioè la Sicilia la Calabria la Campania e la Puglia regioni dove si è verificato anche con maggior frequenza il ricorso allo scegliamento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa direi che è più che un campanello d'allarme della situazione gravissima socialmente grave in cui versa il nostro mezzogiorno all'interno di un contesto europeo che sembra vivere diciamo gli spazi politici e democratici in modo in modo diverso ma torniamo diciamo a quello che riguarda la nostra la nostra relazione la guerra come dicevamo comporta anzitutto dalla perdita la perdita di vita umana e se diamo una scorsa a quello che è il grafico l'andamento delle vittime per tipologia di violenza quindi secondo le classificazioni dell'UPSA la data conflict center che abbiamo citato in precedenza vediamo che le violenze sono cresciute negli ultimi anni e particolarmente le vittime sono cresciute nell'ambito dei conflitti fra gli stati il grafico presenta un picco addirittura fuori scala in corrispondenza del 1994 dove si è verificato uno dei più gravi episodi di violenza dalla fine della seconda guerra mondiale nel XX secolo cioè il genocidio in Rwanda che ha comportato la morte di oltre 800.000 persone ma comunque quello che volevo far mostrarvi è che l'andamento sia del numero diciamo di conflitti sia delle vittime di tutti questi conflitti è negli ultimi anni in costante ascesa la guerra è anche naturalmente una fonte colossale lo accennava prima Piero nell'introdurre questa relazione comporta anche un enorme sperpero di risorse economiche che naturalmente potrebbero essere indirizzate diversamente a raccogliere dati sulle spese militari da molti anni un istituto di ricerca di Stoccolma Sipri che è specializzato appunto in spese militari se noi mettiamo in un grafico le spese militari dell'ultimo anno disponibile del 2022 dei primi 15 paesi al mondo vediamo che svettano gli Stati Uniti con quasi 880 miliardi di dollari spesi nel 2022 a seguire c'è la Cina con circa 300 miliardi di dollari e poi Russia India e così via fino a un poco onorevole direi dal mio punto di vista dodicesimo posto occupato dall'Italia con 33,5 miliardi di dollari spesi in armamenti nel corso del 2022 la spesa di questi 15 paesi prendendo questi primi 15 paesi per spesa militare equivale pensate al PIL del Brasile è il 2% del PIL mondiale oppure possiamo immaginarlo come la somma di un insieme del PIL dei 108 paesi più poveri nel senso diciamo di dimensione del loro PIL al mondo tra cui figurano diciamo nazioni che conosciamo tutti come il Senegal la Libia il Paraguay la Bolivia la Tunisia la Giordania la Slovenia la Serbia e così via questa è la spesa militare complessivamente diciamo la spesa militare nel mondo ormai abbondantemente come vedete dal grafico più in alto superato i 2000 miliardi di dollari ed è in crescita è in crescita ovunque nei grafici in basso trovate che è in crescita sia in America sia in Europa che soprattutto in Asia dove bisogna dire che la Cina incrementa costantemente di anno in anno negli ultimi venti anni il suo budget militare ha una media del 7% all'anno la guerra infine comporta devastazione ambientale il settore militare anche su questo accennava prima Piero è il più grande consumatore principale consumatore di combustibili fossili anche durante i periodi di pace a causa delle tecnologie impiegate e per l'obbio fatto che privilegia la rapidità di movimento delle truppe e la capacità bellica rispetto all'efficienza energetica quindi di per sé il settore militare è un settore dove non si fa risparmio di energia dove l'energia viene consumata in modo poco 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 attento allora non diciamo i dati disponibili a questo punto dobbiamo parlare di emissioni globali di gas da parte diciamo dei militari i dati disponibili sulle emissioni sono incompleti e di scarsa qualità anche perché il protocollo di Chioto nel 1997 aveva inizialmente sonorato gli stati dall'obbligo di rendicontare questa tipologia di emissioni successivamente l'obbligo era stato reintrodotto nell'ambito della all'interno della United Nations Framework Convention o Climate Change o se volete UNFCCC la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ma nel 2015 il Paris Agreement ha fatto un passo indietro stabilendo che i report potessero essere prodotti dalle nazioni su base esclusivamente volontari quindi a questo punto le più recenti stime che sono state fatte da un'altra organizzazione dipendente Scientist for Global Responsibility che è un'organizzazione che promuove responsabilità nella scienza un'organizzazione che ha sede è un'organizzazione inglese e indipendente inglese e che ha elaborato un modello per la stima delle emissioni globali che serve da parte degli uomini in stelletta per raccontarvi naturalmente non preoccupatevi nel merito nel dettaglio dei calcoli che SGR ha fatto per raggiungere i suoi risultati però non vorrei presentarvi dei numeri senza dirvi qual è la metodologia che li sostiene anche perché possiate farvene in qualche modo possiate assumere un valore e dare valore a queste stime devo dire che in generale sono stime prudenziali e conservative quindi vanno immaginate semmai più alte di quanto non vengono presentate comunque il modello diciamo è anche piuttosto semplice si basa su un protocollo che è stato stabilito in anni passati per il calcolo delle emissioni che riguardano non soltanto le organizzazioni militari Greenhouse Gas Protocol protocollo per la misurazione delle emissioni dei gas serra questo protocollo distingue tre ambiti le emissioni dirette di gas serra cioè quelle che l'organizzazione in questo caso la forza militare produce perché da sorgenti che sono di sua proprietà o sono direttamente controllate le emissioni indirette di gas serra che invece sono dovute alla generazione di energie elettriche stata acquistata o consumata da quell'organizzazione quindi comunque assunta dall'esterno e le altre emissioni indirette che non sono naturalmente quelle comprese all'interno dei primi due ambiti e che soprattutto tengono conto delle emissioni necessarie per la produzione e il trasporto di merci che vengono acquistate o impiegate dagli eserciti allora tenuto conto diciamo di queste di questa di questa classificazione che poi rappresentata come vedete qui in queste tre grosse frecce che valgono vanno verso l'alto verso questa nuvola che riassume i sei gas compresi nel protocollo di Kyoto cioè la tida carbonica l'esafloruro di zolfo il metano il protossido di azoto i clorocorburidi idrati e i per clorocarburi tutti questi gas come sappiamo hanno anche effetti climanteranti diversi e perciò ad esempio il metano il CH4 ha un effetto climanterante 21 volte superiore a quella di carbonica per cui per convenzione si è stabilito di assumere la misura della tonnellata di CO2 equivalente in modo da pesare tutte le emissioni con la stessa unità di misura e a questa naturalmente si farà riferimento allora la stima che SGR ha fatto si basa su questo semplice calcolo cioè in pratica l'impronta militare di ogni nazione c'è tutta l'esercito di quella nazione e il prodotto delle emissioni pro capite di ciascun militare per il numero della forza cioè per il personale militare e questo rappresenterebbe le emissioni stazionari cioè per il solo fatto di mettere in divisa degli uomini ogni esercito comporta delle emissioni quindi da un'impronta di carbonio bisogna poi tenere conto diciamo del fatto della più o meno mobilità delle forze militari nei diversi ambiti nazionali e delle forniture esterne cioè delle altre emissioni indirette di cui abbiamo parlato nel Greenhouse Protocol che ho citato in precedenza quindi componendo questa formula questi due fattori correttivi che naturalmente nasce dall'analisi di alcune nazioni dove le misurazioni sono state fatte con una certa accuratezza in particolare i ricercatori fanno riferimento alla Germania alla Gran Bretagna agli Stati Uniti è possibile calcolare l'impronta militare di ciascuna nazione e per sommatoria di tutte le impronte militari nazionali è possibile calcolare l'impronta di carbonio militare globale sul pianeta quanto vale questa impronta allora questa impronta vale quasi 10 milioni diciamo allora per calcolarla visto che come abbiamo detto l'impronta di carbonio è in qualche misura anzi è senza in qualche misura proporzionale al numero di personale impiegato nell'esercito è importante avere delle stime anzi dei numeri sul personale militare quelle che possediamo sono le ultime sono il 2019 e le ha RS Publi un altro istituto internazionale per gli studi strategici e ci dice che il 47 quasi la metà diciamo del personale militare delle persone in stellette si trova a Talassia e l'Oceania quasi 10 milioni di persone in armi 2 milioni e mezzo sono tra il Medio Oriente e Nord Africa quasi 2 milioni si trovano in Europa un milione e mezzo nell'Africa subsahariana e altre tante in America Latina nel Nord America e tra la Russia e l'Ucraina accomunate diciamo in questa speciale classifica e la parte del leone in Asia e Oceania come potete ben capire la fa la Cina con oltre 2 milioni di persone armate però anche l'India ha quasi un milione e mezzo di persone in armi e la Corea del Sud 600.000 allora mettendo assieme queste informazioni e questi dati sulla base di quel di quel calcolo che di quella formula di calcolo che vi ho rapidamente presentato prima l'SGR è arrivata a formulare delle stime che come ripeto sono conservative ma in ogni caso contenute all'interno di una forchetta proprio per avere dei margini diciamo di incertezza il valore minimo diciamo del totale delle emissioni di anidride carbonica equivalente è di 1644 milioni di tonnellate mentre il valore massimo supera i 3400 sono numeri che dicono poco se non le rapportiamo a quelle che sono il globale delle emissioni sul pianeta il globale il totale delle emissioni di anidride carbonica equivalente sul pianeta Terra ogni anno è di circa 50 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente miliardi di anidride carbonica equivalente e quindi su questo totale l'impronta di carbonio dovuta e ripeto alla sola presenza dei militari sul pianeta varia tra il 3,3 al 7% del totale per avere anche qui un'idea di cosa voglia dire sappiate che l'aviazione civile è responsabile dell'1,9% le spedizioni dell'1,7% l'industria del cibo e del tabacco appena dell'1% del totale quindi l'impronta di carbonio tutta la presenza militare del mondo è estremamente significativa e se un'ipotesi del tutto fantascientifiche i militari fantascientifiche anche terribilmente fantascientifiche i militari di tutto il mondo fossero uniti in una sola nazione questa nazione di militari rappresenterebbe la quarta nazione al mondo per l'impronta di carbonio superata soltanto dalla Cina dagli Stati Uniti e dall'India questi come vedete tra l'altro sono i principali contributori al mondo di emissioni di anidride carbonica quindi Cina Stati Uniti India Russia Brasile Giappone Iran Canada e Arabia Sud sono i primi secondi dati del Climate Watch nel 2019 allora noi abbiamo sin qui però peraltro considerato soltanto le emissioni diciamo conseguenti al fatto che dovute alla presenza di militari non abbiamo preso in esame le emissioni di CO2 che derivano dai danni provocati all'ambiente dalle operazioni militari sui teatri di guerra è evidente che in guerra il livello delle emissioni è molto più alto a causa della intensa mobilitazione delle truppe dell'uso più intenso del fuoco della devastazione ambientale della realizzazione di fortificazioni e della estensione assai maggiore delle catene logistiche necessarie per fronteggiare le operazioni al fronte ed è chiaro che anche l'espulsione di un missile persino di un sol proiettile contamina le sostanze tossiche l'aria l'acqua la terra e ogni tonnellata di CO2 equivalente emesso ovunque nel mondo non importa se in Ucraina o in Nigeria contribuisce in ugual misura al cambiamento climatico che interessa noi tutti ora la sola ricerca di cui noi disponiamo per quanto riguarda i danni provocati dall'ambiente durante i conflitti quindi al di là di quelli già gravissimi prodotti dalla sola presenza degli eserciti sul pianeta è quella che è stata pubblicata nel febbraio da un gruppo di ricerca guidato da un olandese Leonard de Klerk e che riguarda i danni provocati al clima dal conflitto russo ucraino in un anno di questo conflitto cioè dal 24 febbraio del 2022 al 23 febbraio del 2023 sono gli unici che abbiamo e quindi presentiamo questo poi è difficile fare delle strapolazioni ciascuno di noi potrà fare delle valutazioni tenuto conto del quadro così diciamo di guerre che abbiamo visto che pervadono l'intero pianeta può farsi un'idea dei danni complessivi che la guerra intesa proprio come attività bellica in corso ulteriormente provoca al pianeta io questa diciamo su questo ho già relazionato su questo mi ricordava Piero a Roma lo scorso 20 settembre e quindi sarò anche molto rapido nel dare ma voglio farlo perché per dare una conclusione diciamo a questa mia relazione allora nel totale diciamo nei 12 mesi di guerra i 12 mesi di guerra il De Klerk e i suoi collaboratori hanno preso in esame otto componenti dalle quali derivare l'emissione di anidride carbonica o di gas sera cioè di carbonica equivalente e sono le operazioni belliche in senso stretto sono gli incendi provocati dalle esplosioni dei bombardamenti sono il movimento dei rifugiati cioè le persone che sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e quindi si sono messe in noto per allontanarsi ci sono i cambiamenti dovuti all'evoluzione civile alcune rotte sono state cambiate sono i danni e le necessarie ricostruzioni di infrastrutture civili il denneggiamento dei gas dotti della stream 1 e 2 i cambiamenti intervenuti a livello del settore energetico europeo e poi anche a quello più in particolare nazionale ucraino allora do semplicemente quelli che sono i risultati di questa ricerca per quanto riguarda le emissioni dovute alle operazioni belliche in senso stretto considerando queste diverse sorgenti di emissioni cioè il consumo di carburanti l'uso di munizioni esplosive la costruzione di fortificazione il danneggiamento e quindi la sostituzione delle attrezzature militari e persino il concentramento delle truppe russe prima dell'invasione si possono calcolare 21,9 milioni di tonnellate di CO2 equivalente emesse nel primo anno di guerra in Ucraina gli incendi gli incendi naturalmente sono state colpite sia aree edificate che aree forestali con combustione di materiali di biomasse di materiali e la valutazione che si dà è di 17,7 milioni di tonnellate di nitide carbonica equivalente il momento dei rifugiati in particolare in Ucraina come sapete è stato particolarmente imponente perché quasi il 30% della popolazione inizialmente è stata costretta a trasferirsi in altre aree del paese o al di fuori del paese per quanto molte di queste persone la metà forse ormai o forse anche più della metà ormai sia probabilmente rientrata e questa migrazione di massa ha comportato delle emissioni che sono state valutate in 2,7 milioni di tonnellate di CO2 equivalente diciamo dell'aviazione civile la chiusura dello spazio aereo ucraino ha indotto molte compagnie a cambiare a cambiare rotta soprattutto i voli verso l'est e il sud est asiatico pensate in esempio che il viaggio da Seoul a Helsinki che è l'hub aereo che è stato maggiormente colpito questo volo è aumentato di ben 8 mila chilometri e di 7 ore di viaggio le compagnie giapponesi per esempio impiegano ancora 4 ore in più per collegare Tokyo con Londra tutto questo dunque ha comportato un incremento nelle emissioni di anidride carbonica equivalente che è valutato in 12 milioni di tonnellate di CO2 i danni alle infrastrutture civili sono stati oggetti di valutazione da parte della Banca Mondiale di concerto con la Kyiv School of Economics e hanno prodotto delle stime per valutare le emissioni di anidride carbonica equivalenti alla ricostruzione si è usato l'approccio del detto carbonio incorporato cioè per ogni metro cubo di calciastruzzo o per ogni metro di stato da ricostruire ognuna di queste unità di misura comporta una emissione di anidride carbonica in totale si ha una cifra molto alta che è di 50,2 milioni di tonnellate di CO2 il 22 settembre del 2022 come sapete sono stati danneggiati irrimediabilmente da due grosse esplosioni sottomarine i gasdotti Nord Stream 1 e 2 con conseguente fuoriuscita di metano che ha comportato l'emissione di 14,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente mentre per quanto riguarda l'impatto sul settore energetico europeo dopo una lunga discussione i ricercatori sono andati alla conclusione che tra il maggior consumo di petrolio e la riduzione dell'utilizzo del gas sostanzialmente queste si compensano tra di loro e quindi si può considerare sostanzialmente neutro ai fini di questa ricerca lo stesso vale diciamo per l'impatto sul livello nazionale ucraino perché la drastica contrazione del PIL del 30% che ha comportato certamente una anche una minore impronta di carbonio è corrisposta però a consumi dei rifugiati altrove particolarmente in Europa complessivamente per semplificare anche questo dato si può considerare neutro in totale prendendo in esame le emissioni in 12 mesi di guerra sul teatro ucraino abbiamo che il totale fa 110 da 9 milioni di tonnellati di CO2 equivalente anche in questo caso se non facciamo riferimento alla qualche misura il numero di per sé dice poco se voi però immaginate che 119 milioni di tonnellati di CO2 equivalente sono quante tante quante ne produce in un anno un paese grande e industrializzato come il Belgio capite che come se all'Europa nel corso di un anno di guerra in Ucraina avessimo sommato un altro Belgio in termini di emissione di anidride carbonica equivalente allora vado alle conclusioni spero che siano tutti d'accordo con me con la prima delle conclusioni che la guerra è la più stupida delle attività che posta in essere dall'uomo perché uccide ogni anno centinaia di persone ne condanna molte migliaia di altre ha una vita disperata spera risorse ingentissime abbiamo visto i primi 15 paesi al mondo equivalgono al PIL dell'intero Brasile quindi sono risorse che potrebbero essere impiegate in modo certamente più utile e infine in modo ancora più tragico aggrava la crisi climatica che sappiamo minaccia il futuro stesso dell'esistenza dell'uomo sul pianeta nel 2015 gli accordi di Parigi avevano stabilito di contenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi puntando anzi come sapete a un aumento massimo di 1,5 gradi una soglia che poi è stata ribadita anche dalla COP26 che si è tenuta dal 31 ottobre al 12 novembre del 2021 a Glasgow in Scozia le emissioni globali secondo queste valutazioni dovevano raggiungere un picco entro il 2025 per poi diminuire del 43% entro il 2030 e dell'84% addirittura entro il 2050 ma già nel 2021 prima ancora dello scoppio della guerra in Ucraina per effetto della ripresa economica post-covid l'edile carbonica emessa per produrre energia era aumentata del 6% seguendo queste attuali previsioni nel 2030 le emissioni saranno ridotte appena dello 0,5 se lo saranno rispetto al 2010 dunque mentre ci affanniamo per ridurre drasticamente le emissioni di gas serra e limitare quindi l'incremento l'aumento della temperatura del pianeta a 1,5 gradi a 1,5 gradi le emissioni causate solo dalla presenza degli eserciti e poi ancora maggior ragione dai conflitti in corso delle operazioni sui teatri di guerra rendono quanto mai difficile il raggiungimento di questi obiettivi le classi dirigenti globali concludo davvero sembrano incapaci di perseguire la pace aumentano le spese in armamenti anziché curare il pianeta sembrano intenzionati davvero a distruggere grazie grazie Pino magnifica e terribile lezione siamo naturalmente agghiacciati hai confermato con cifre diciamo esposte con grande padronanza e chiarezza quello che tutti immaginiamo ecco naturalmente su su queste cifre su questo quadro che tu hai esposto è difficile intervenire e fare discussione io comunque invito tutti a fare domande a chiedere eventuali chiarimenti dico subito prima di dare la parola che oggi ci sarebbe rispetto a tutti i secoli passati una ragione fondamentale in più per aspirare e cercare di conseguire la pace per l'appunto il fatto che siamo consapevoli per la prima volta nella storia che la guerra non solo uccide gli uomini distrugge territori dilapida ricchezze eccetera ma minaccia la casa comune del pianeta questa è la nuova consapevolezza del nostro tempo che si aggiunge a quello che sapevamo già della guerra e quindi diciamo maggior ragione la pace dovrebbe essere un obiettivo universale ma anche soprattutto una componente culturale diciamo che dovrebbe costituire parte della formazione del cittadino oggi il cittadino dovrebbe essere educato alla pace fin da bambino do la parola a chi vuole intervenire volevo venire io brevemente posso? Tonino Tonino Perna no velocemente due cose una tecnica quando si parla di spesa militare per paesi e Pino poi l'ha illustrato quel grafico dove si vede gli Stati Uniti 800 e passa miliardi e via via gli altri bisogna riponderarlo a livello di potere d'acquisto cioè 800 miliardi negli Stati Uniti e 100 miliardi in Cina anzi esattamente se volete una cifra 180 miliardi in Cina e 800 miliardi negli Stati Uniti hanno lo stesso potere d'acquisto quindi se la Cina spende 180 miliardi per gli armamenti spende una cifra che in termini di mobilitazione di risorse umane e materiali è equivalente agli Stati Uniti così come se il Burundi spende 10 milioni eccetera per il suo per il potere d'acquisto che hanno quei 10 milioni bisogna riconsiderarli e quindi il quadro mondiale è un po' diverso da quello io mi permetto una citazione personale 12 anni fa facevano una fessa di labbra sulla corsa degli armamenti nel mondo quando ancora non era visibile e veniva fuori questa crei parlo del 2010 2011 veniva fuori la crescita di spesa militare della Cina che ha fatto una rincorsa incredibile negli ultimi 10 anni che oggi è una potenza diventerà sempre più una potenza probabilmente al pari degli Stati Uniti in termini militari la seconda considerazione riguardava il metano il metano e qui faccio un mia colpa fece lavorare per un progetto della comunità europea per diffondere il metano in Sicilia negli anni 80 era un progetto patrocinato da un gruppo di ricerca italiano e mi è trovato da girare in Sicilia per convincere le serre e i produttori di sostituire il petrolio con il metano dicendo che il metano in gran parte bruciava e questo lo sostenevano tecnici non dico scienziati ma tecnici c'è una relazione in cui il metano faceva molto meno male del petrolio io pensando di fare un'azione ecologica di Rai nelle varie serre delle varie industrie sostenendo questa tesi eccetera mentre come ha detto giustamente Pino è molte volte non so se 20 o 24 volte più dannoso della ecco uno degli effetti della guerra tra Russia e Ucraina è quello che noi importeremo dagli Stati Uniti il metano liquido cioè noi ci sposteremo sempre più per diventare metano dipendenti questo è gravissimo pensate alla battaglia che fra l'altro sta facendo anche un nostro amico Agostinelli a Civitavecchia perché Civitavecchia dal carbone lei ne vuole passare al metano mentre c'è un progetto per passare all'idrogeno mi fermo qua e l'ultima cosa sono i dati io sapete ho questo pallino degli incendi la guerra provoca tanti incendi e voglio dirvi l'ultimo dato per l'Italia degli incendi però non provocati dalla guerra sono un milione e mezzo di CO2 solo quest'anno solo per gli incendi che abbiamo avuto quest'estate e in tutta Europa siamo sopra i 10 milioni quindi se le affrontate anche a quei dati vedete come anche questo le guerre hanno un impatto maggiore sicuramente ma anche questi incendi sono come una guerra invisibile oppure visibile ma accettate come si accetta la pioggia un evento naturale e quindi chiedevo perché Pino a un certo punto parlava di una cifra che volevo controllare meglio di 2 miliardi di emissioni di CO2 nel pianeta se confermi mi pare che questo sia un dato corretto 50 miliardi no sì intanto finisci Tonino posso queste cose poi chiaramente grazie è una cosa importante chiaramente fa fuori e non fa parte di nessun accordo serio cioè ci sono due grandi cose che non vengono prese in considerazione quando si parla di inquinamento una è la guerra l'altra sono gli incendi sì dunque intanto per quanto riguarda le spese militari hai perfettamente ragione i dati che ho riportato sono quelli di Sipri che li rapporta al dollaro 20-22 quindi sono rivalutati naturalmente nel corso però sono parametrati naturalmente a un'unità di misura quella del dollaro e non tiene conto naturalmente del potere d'acquisto e quindi dei sacrifici più o meno maggiori che i diversi stati devono ottenere la cosa però curiosa a questo riguardo sai qual è Tonino è che la Cina che detiene buona parte del debito pubblico americano in qualche modo finanzia la spesa meno adesso il 15% in qualche modo partecipa al finanziamento e comunque tutti noi partecipiamo alla spesa militare curioso che lo faccia soprattutto la Cina che come come è noto è il competitore globale e poi dicevi sì assolutamente d'accordo su naturalmente sugli incendi per quanto riguarda il totale delle emissioni annue dovute a tutte le attività dell'uomo sul pianeta le stime viaggiano da 40 a 50 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente io ho preso il dato di 50 miliardi ma ho preso semplicemente perché è il dato di climate watch e siccome gli altri dati sono di climate watch per essere coerente bisogna assumere prendere in esame una sola fonte infine è perfettamente ragione il metano è considerato 21 volte superiore rispetto all'anidride carbonica infatti pesa in quel paniere 21 volte di più dell'anidride carbonica e il gas naturale liquido è 10 volte superiore al gas metano quindi anche qui è una cosa davvero assurda perché noi abbiamo limitato l'importazione di gas naturale per importare gas liquido che 10 volte ha un effetto clima alterante 10 volte superiore più il trasporto più il trasporto di anale dagli Stati Uniti probabilmente questo fattore 10 tiene conto anche di questo non ne sono sicuro ma credo che ne tenga conto grazie figurati grazie a te ricordo che a produrre metano ci sono soprattutto gli allevamenti intensivi degli animali i quali si aggirono non esistono cifre ufficiali da parte della FAO ma i calcoli ufficiosi diciamo si muovono in un range tra i 60 e gli 80 miliardi di individui e poi naturalmente i sostenitori dell'agricoltura industriale ritengono appunto questa forma di produzione del cibo necessaria di fronte al fatto che dobbiamo sfamare 8 miliardi di uomini di individui gli 80 miliardi probabili degli animali sono una mazzecola allora capisco che diciamo il tipo il tipo di lezione di questa sera non si presta molto alla discussione perché i dati sono quelli lì la realtà è quella lì se non ci sono delle domande noi chiudiamo qui ringraziando ringraziando naturalmente di cuore in eppolito per questa per questa lezione che sarà registrata e quindi sarà oggetto di studio e sarà oggetto di studio da parte di tutti coloro i quali vorranno informarsi su questa realtà purtroppo ancora non abbiamo la registrazione come speravo della lezione di Federico Butera e quindi siamo siamo un po' in ritardo ma appena la riceverò da Roberta Morea la farò avere e approfitto per annunciare la lezione del la prossima lezione che sarà tenuta da Gregorio De Paola le origini della guerra in Ucraina secondo i documenti e la bibliografia quindi ci vediamo il 16 di novembre giovedì il 16 novembre allora un grazie ancora di cuore a Pino e un grazie a tutti voi che ci avete seguito e che continuate a seguire grazie 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 a tutti grazie arrivederci ciao grazie